Buongiorno a tutti e benvenuti su Direct Drive Italia Oggi andiamo a vedere il nuovissimo cambio sequenziale in uscita in Italia a breve prodotto da C-Magic Partendo appunto dalla scatola notiamo che in realtà è stato fatto questo lavoro per tutte le scatole C-Magic viene già raffigurato il cambio sequenziale nelle sue varie angolazioni Partendo dall'apertura della scatola notiamo come al solito l'ottimo imballaggio utilizzato da C-Magic per quanto riguarda appunto il cambio sequenziale ma anche il resto dei prodotti Troviamo al suo interno la carta della garanzia che come al solito vi ricordiamo di tenere per farvi aggiustare il motore e per cui potete contattarci per in qualsiasi tipo di problema L'assistenza vi ricordo che è italiana e viene completamente gestita qui a Pavia da noi e poi subito si vede il cambio sequenziale Io direi di partire come al solito dall'esterno e comincerei proprio dalla parte un pochino meno interessante ovvero i cavi ovvero in questo caso è soltanto un cavo e sarà il cavo che si collegherà appunto al vostro cambio sequenziale che li porterà all'alimentazione oltre che ovviamente collegarsi al PC Poi abbiamo tutto quello che ci serve per montare il vostro cambio sequenziale alla vostra postazione quindi chiavi a brugole, T-Nuts che sarebbero queste mollettine qui che trovate anche nei profilati viti e tutto quello che vi può servire per andare a fissare il vostro cambio sequenziale La prima impugnatura è questa Praticamente è molto solida al tatto All'interno, non so se si riesce a vedere, c'è una filettatura che appunto permette l'avvitamento ma ve lo vedremo successivamente Il materiale è molto bello, si sente veramente una consistenza decisamente importante e anche il peso non è trascurabile e riesce a passare una sensazione di premium al tatto Per quanto riguarda il secondo invece è un pochino più carino anche a livello visivo almeno per i miei gusti, poi ovviamente qua si entra nella sfera dei gusti personali ed è fatto il legno, quindi è proprio un legno colorato nero ed è un pochino più alto per avere una presa un pochino più comoda Ovviamente ha lo stesso principio di funzionamento, quindi ovviamente la filettatura Passando ovviamente al pezzo forte della confezione troviamo il cambio sequenziale Simagic che adesso andiamo a vedere un pochino più nello specifico Eccolo qui, in tutta la sua bellezza Come vedete è sicuramente abbastanza importante come cambio sequenziale nel senso che mette a disposizione 4 tasti che sono retroilluminati ma non vi preoccupate, questa parte qui la vedremo in un altro video in cui vi faremo vedere come funziona una volta collegato e tutte le sue feature, feature possibili, utilizzabili una volta attaccato alla vostra postazione e come vedete il materiale utilizzato, anche questo è alluminio CNC lavorato e praticamente dà subito una sensazione di premium una volta tirato fuori dalla scatola Come dicevo abbiamo 4 tasti e poi il display LCD che si illuminerà appunto mostrando la marcia in cui vi trovate nel momento in cui siete entrati in pista Come vedete il funzionamento è abbastanza semplice perché è una vite che appunto si stringe e si fissa immediatamente quindi rimane completamente bloccato Prima di passare al funzionamento tecnico nel cambio sequenziale volevo farvi vedere l'incredibile precisione con cui è stato realizzato questo cambio infatti la periferica non ha il minimo gioco quindi il cambio sequenziale praticamente non si muoverà per nessun tipo di ragione Per quanto riguarda il montaggio tornando un attimo alla parte del montaggio notiamo che qui abbiamo dei fori per andarlo a montare sulle vostre postazioni può andare sia per un profilato che per un tubolare e la cosa interessante che non so se riuscite a vedere è appunto che il cavo di connessione c'è da entrambi i lati quindi se per caso voi volete guidare come un pilota americano o come un pilota italiano potrete mettere il cavetto da una parte o dall'altra non fa nessuna differenza in termini tecnici ma comunque vi considera un cable management di livello senza avere cavi in mezzo che potrebbero appunto infastidirvi o potrebbero intralciarvi durante le vostre gare per quanto riguarda la parte delle regolazioni questo cambio funziona tramite questa specie di vite noi in pratica ci basterà andare a prendere la chiave a brugola che troviamo nella confezione che abbiamo visto prima e possiamo andare a regolare l'intensità quindi la durezza della cambiata semplicemente andando ad avvitare o svitare questa chiave a brugola più andremo ad avvitare questa vite più il cambio risulterà deciso, resistente ma soprattutto darà una sensazione di innesto della marcia proprio come su una macchina da rally vi faccio provare a sentire questo è settato veramente forte quindi cercherò di non rompere niente come vedete il rumore è molto secco e dà proprio un'ottima sensazione anche a livello di ingranaggi io adesso per farvi vedere un pochino più da vicino come funziona la cambiata andrò a renderlo un pochino più morbido perché ovviamente serve anche una certa pressione e non avendolo avvitato insomma non è semplice in pratica qui dove c'è l'ingranaggio questo è quello che avviene ovviamente adesso avendo diminuito la durezza il rumore si fa decisamente meno deciso e anche la sensazione risulta un pochino più fievole rispetto a come era inizialmente quindi ovviamente tenete presente che se per caso la sera volete giocare non volete dare fastidio ai vicini o a qualcuno che sta dormendo potrete diminuire la rumorosità la resistenza vi darà una sensazione inferiore ma comunque potrete utilizzarlo senza dare fastidio a nessuno in questo caso come vedete è molto più semplice andare a cambiare più io andrò a aumentare l'intensità più questo scatto sarà deciso e quanto più realistico possibile come vedete qua a seconda di cosa faccio la rotellina si gira e dà questa sensazione di innesto per questo video credo di aver detto tutto se avete qualsiasi tipo di domanda qualsiasi dubbio potete scrivere nei commenti c'è la mail c'è il numero whatsapp insomma non fatevi alcun tipo di problema siamo qui per questo potete chiedere scrivere vi rispondiamo senza alcun tipo di problema vi chiedo se il video vi è piaciuto di lasciare un bel like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao